sapete benissimo che sono un amante dei piatti semplici ma quello che vi propongo oggi ancora non ve l'avevo mai fatto vedere qui sul canale perché oltre ad essere buonissimo è anche un primo piatto di pasta molto molto leggero e salutare venite con me che andiamo nell'orto a raccogliere gli ingredienti e poi lo prepariamo insieme buona visione l'idea di farvi vedere questa ricetta mi è venuta proprio stamattina quando ho visto spuntare le prime taccole che abbiamo appena raccolto e nonostante già siamo siamo in seconda mattinata quindi verso le dieci e mezza i fiori di zucca stavano cominciando a richiudersi però li raccogliamo ugualmente perché serviranno proprio per la preparazione di questo piatto così come servono questi germogli che si chiamano tenerumi sono proprio la parte più tenera della pianta della zucca pertanto reperiti taccole fiori di zucca e tenerumi adesso andiamo a raccogliere ancora qualche foglia di basilico poi abbiamo preso una zucchina e una bella cipolla rossa dolce di tropea direi che abbiamo tutto possiamo spostarci in cucina allora questi ingredienti diciamo che hanno dei tempi di cottura diversi per cui dobbiamo andare per ordine la prima cosa è pulire le taccole come è semplicissimo togliere le due punte alle due estremità poi li facciamo in due o in tre parti e li mettiamo da parte in una scodella che saranno proprio loro a finire prima in pentola non è che siano durissimi però rispetto agli altri ingredienti hanno bisogno di un po di anticipo andiamo a fare una sciacquata sotto acqua corrente e poi possiamo spostarci sul fornello vi dicevo che questa è una ricetta buonissima c'è un primo piatto davvero molto buono e soprattutto leggero infatti basteranno un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva poi accentiamo una fiamma sotto e andiamo a tritare piccolo piccolo uno spicchietto d'aglio o in alternativa potete mettere un cucchiaio della nostra crema di aglio che eventualmente trovate disponibile sul nostro sito io qua non ce l'ho a portata di mano ce l'ho fuori per cui ne approfitto di prendere lo spicchio siccome questa cipolla è bella grande a me ne basta metà anche questa la andiamo a tagliare così a pezzettini e la lasciamo scaldare nell'olio insieme all'aglio questo è un piatto che adoro un po anche per i colori che lo compongono e soprattutto perché mi ricordo il passato non appena la cipolla inizia ad appassire e l'aglio inizia a spregolare facendo attenzione a non farlo bruciare procediamo con l'aggiunta delle taccole giriamo tutto insieme e le lasciamo cuocere per un po nel frattempo ne possiamo approfittare per pulire i tenerumi dobbiamo togliere soltanto questi filamenti che vedete qui ai lati e poi togliamo una piccola parte del gambo così dietro si toglieranno anche questi fili più duretti che darebbero fastidio se li trovassimo nel piatto i tenerumi sono i perfetti rappresentanti della tradizione contadina e gastronomica proprio fanno parte della cucina povera che in realtà è sempre ricca di tanto gusto dal resto come vi dico sempre le cose semplici sono spesso le migliori diamo una bella sciacquata insieme abbiamo messo anche delle foglie di basilico e passiamo tutto nella pentola ancora una girata e lasciamo andare tutto insieme procediamo adesso con l'aggiunta di un mezzo bicchierino d'acqua chiudiamo il coperchio e poi procediamo a tagliare la zucchina tagliamo facciamo due tagli e poi facciamo dei pezzettini piccoli in questo modo qua se vi piace potete anche aggiungere una patata però io non me la trovavo a portato di mano e non l'abbiamo messa una volta che abbiamo tagliato la zucchina togliamo il peduncolo ai fiori e ce li teniamo da parte perché insieme alle zucchine saranno gli ultimi ingredienti che aggiungeremo adesso possiamo passare a tagliare a metà una decina di pomodorini non è una pasta che deve venire troppo rossa però questi pochi pomodorini ci stanno benissimo fate abbiate l'accortezza di scegliere quelli più rosse più maturi così avranno più gusto un elemento molto importante di questo piatto è la polvere rossa di peperone dolce avete visto a questo punto abbiamo fatto uno spazio a centro e poi l'abbiamo aggiunta questa darà davvero tanto profumo di calabria e accentuerà ancora di più il gusto contadino passiamo anche ad aggiungere i pomodori che abbiamo in precedenza tagliato e possiamo anche mettere di nuovo un bicchiere d'acqua lasciamo adesso cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti un quarto d'ora vi do ancora una variante se avete qualche scorza di parmigiano o di pecorino questo è il momento giusto per aggiungerla e ci starà benissimo sono già quasi trascorsi i 10 minuti di attesa procediamo con tagliare i fiori e poi tra un attimo aggiungeremo insieme la zucchina e gli stessi fiori di zucca anche loro si prestano a tantissime ricette e sono buonissime anche sulla pizza oppure da fare ripieni con l'acciuga con la ricotta si possono fare in tantissimi modi ora nel frattempo che qui lasciamo cuocere per ancora 10 minuti un quarto d'ora proprio in questo lasso di tempo ne approfitto per fare la pasta fresca ho già messo la giusta quantità di farina e di semola mixata a modo mio vado ad aggiungere a filo l'acqua e dopo il tempo necessario per l'impasto vado ad estrudere così avrò della pasta fresca trafilata al bronzo che certamente darà un valore aggiunto a questo piatto quando faccio la pasta fresca nella mia casetta è il momento della giornata in cui mi rilasso di più perché davvero è un antistress naturale mi piace sperimentare fare gli impasti con varie aggiunte e scrivetemi nei commenti se vi fa piacere così magari farò qualche video dedicato sulla preparazione di paste particolari guardate com'è venuta bella ruvida al punto giusto l'ho tagliata seppettamente pur con la spatola abbastanza in modo regolare ma proprio qui come dice pietro la bellezza sta nell'irregolarità delle cose a questo punto diciamo che il condimento per la pasta è pronto ho aggiunto soltanto l'acqua che servirà per la cottura della pasta e non appena sarà in ebollizione non ci resterà che calare questo bel mezzo chilo di pasta fresca ed ecco qui il momento in cui l'abbiamo versata nella pentola dobbiamo soltanto aspettare la cottura che come potete ben immaginare sarà davvero molto breve trattandosi di pasta non essiccata ed in meno di cinque minuti già si procede all'impiattamento avvalanca mi trovo come state vedendo proprio sul davanzale della finestra perché perché questa pasta è buona tiepida per cui prima di assaggiarla la lascerò riposare un quarto d'ora e poi la prima cosa che farò versare una bella forchettata di peperoncino diavolicchio tagliato in olio e poi finalmente posso gustarmela alla vostra salute e quasi mangio a cucchiaio questo è il cucchiaio della felicità am ragazzi gusto contadino si sente la freschezza e la delicatezza di tutti gli ingredienti che sono tutti ben accoppiati tra di loro non vi resta che provare a farla e lasciarmi un commento grazie a tutti